Ennesimo incidente che vede l'investimento di un ungulato da parte di un'auto si è verificato lungo la strada provinciale 45 nel tratto che da Carignano porta a Fano. Questa mattina attorno alle 6 una Citroen C3 condotta da una donna mentre procedeva in direzione Fano si è improvvisamente trovata davanti un cinghiale adulto di grossa taglia che gli ha attraversato improvvisamente la strada. Il violento urto è stato praticamente inevitabile come legito auto con il frontale distrutto ed il grosso animale selvatico morto. E' andata bene però la donna nonostante lo shock può raccontarla le conseguenze fortunatamente si limitano ai soli danni dell'auto anche se ammontano ad alcune migliaia di euro ma dal punto di vista fisico per la conducente nessuna conseguenza. Sul posto oltre al personale del CRAS che si è occupato della carcassa dell'animale una pattuglia dei carabinieri per i rilievi di norma. Finale ben diverso da quello che è accaduto invece a Lodi nel pomeriggio di venerdì 4 gennaio dieci giorni fa dove un branco di cinghiali ha attraversato l'autostrada A1 all'altezza di Lodi e causato una carambola paurosa che ha visto tre auto distrutte, una famiglia di quattro persone ferita e purtroppo la morte di un uomo, un cittadino polacco di 28 anni. Il problema degli animali selvatici in particolare dei cinghiali sta assumendo sempre di più i connotati dell'emergenza oltre che per le coltivazioni anche per l'incolumità dei residenti ed episodi di questo tenore rischiano di diventare sempre più frequenti essendo ormai la diffusione e la riproduzione di questa specie fuori controllo e la loro intraprendenza sempre più spavanda, li spinge anche alla ricerca di cibo fin oltre la soglia delle abitazioni. Beh oramai purtroppo gli ongulati spinti dai lupi dalla montagna sono arrivati, l'ho detto più di una volta, al mare. Le condizioni dell'ambiente sono queste, la presenza dei cinghiali soprattutto è una presenza molto pericolosa. Quali sono le motivazioni che spingono un esemplare ad adentrarsi così? Allora le condizioni sono due, loro sono spinti intanto dalla ricerca del cibo ma sono favoriti da un aspetto fondamentale che è quello degli ambienti in cui non si può effettuare né la caccia né il controllo, ovvero la presenza di parchi, foreste edemagnali, zone di ripopolamento e cattura come nel caso di specie. Lì nella zona del Fenile c'è una zona di ripopolamento e cattura in cui questi selvatici si rifugiano e ogni tanto escono causando incidenti. Le operazioni di controllo non le possiamo più esercitare dove c'è il divieto di caccia. Purtroppo questi animali vanno dove non sono predati.